Dopo circa 20 anni di pubblicazione esclusivamente cartacea, la rivista ufficiale della Federazione Italiana Medici Pediatri, il Medico Pediatrica, è sbarcata nel 2019 sul web. È un passaggio importante perché oltre che avere una maggiore diffusione e permettere una libera consultazione da parte di tutti i pediatri rappresenta un'evoluzione della rivista, in quanto la rivista ricordiamo che è una rivista con temi molto adatti e molto tarati sull'attività del pediatra di famiglia e la pubblicazione sul web può permettere sia una ricerca degli articoli pubblicati, sia anche la possibilità di stampare singolarmente i singoli articoli. L'inizio della pubblicazione della rivista del Medico Pediatrica è del 2019, ma saranno inseriti all'interno del sito web anche le annate precedenti, in modo da poter trovare anche gli articoli precedentemente pubblicati. La rivista prevede anche l'invio delle newsletter a oltre 2300 pediatri, l'invio delle newsletter ovviamente è legato alla registrazione del proprio consenso e quindi noi cerchiamo di stimolare ulteriormente l'adesione a questa possibilità di invio perché rappresenta un valore aggiunto della pediatria di famiglia.